Ciao ragazzi, l'escursione di oggi prevede sempre sui monti della Valtrompia, partenza da Bovezzo verso l'eremo di Sant'Onofrio, un percorso che dovrebbe essere agevole e prevede i segnali che si chiamano un'ora e quaranta, vediamo la partenza, andiamo, ciao! Ecco passiamo dall'acquadotto e poi da qui comincia il sentiero Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!